Ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale, si ricomincia e ricominciamo da dove abbiamo terminato quindi ci rivedremo ogni lunedì alle 21 con le argomentazioni sulla musica del momento vi parlerò quindi dell'attualità musicale, dell'attualità del mondo delle discoteche e del clubbing ma non solo, vedremo anche le differenze tra oggi e gli anni 90-2000 e anche vi parlerò della storia dei generi musicali che hanno fatto la storia degli anni 90-2000 in particolare, visto che della musica dance e della musica trans ve ne avevo già parlato vi parlerò quindi dei generi che mancano, quindi della musica techno, della musica progressive, della musica artstyle, della musica hardcore, della musica house e via di seguito mentre invece il mercoledì sarà il turno come sempre dello spazio pillole anni 90-2000 sempre ogni mercoledì alle 21 in cui vi parlerò di come erano le radio, le discoteche, i programmi televisivi e le compilation negli anni 90-2000 e poi invece il venerdì sarà lo spazio dedicato al DJ Piazza In The Mix ogni venerdì alle 18.30 mixerò 5 canzoni degli anni 80-90 e 2000 mentre invece l'ultimo venerdì di ogni mese ci sarà lo spazio Dance Now quindi 5 canzoni dance nuove mentre invece per quanto riguarda lo spazio della domenica la domenica è il momento di Dance 24 ovvero 8 ore di rotazione video musicale dance anni 90-2000 non stop ogni domenica dalle 16 a mezzanotte quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo qui sul mio canale ogni lunedì alle 21 ogni mercoledì alle 21 ogni venerdì alle 18.30 o l'ultimo venerdì del mese alle 21 e ogni domenica dalle 16 a mezzanotte a presto